E salve a tutti gente e benvenuti in questo nuovo video di Vedate un po' SimCity Ho deciso di iniziare una nuova serie partendo da questa città Poi non so se posso fare altre città visto che sono in una versione particolare Avrete già capito, alcuni no, ma fa niente Devo ancora costruire il tutto, abbiamo appena iniziato, ho creato un nuovo mondo Logicamente il gioco, avete già capito no? Vabbè, saltiamo questa parte e proseguiamo subito Intanto devo capire come funziona sto robo perché è un po' difficile visto che ho appena iniziato a giocare Allora, iniziamo subito dovrei intanto capire i pulsanti Vabbè ci sono i simboli del coso Qui i simboli delle cose che dovrei costruire Qui invece vi mostro le regioni E la mappa che ho messo Ce ne sono solamente tre perché questa è l'unica che posso mettere Quindi andiamo dentro Cavolo Si torna dentro Lol Lol raga Non so come si entra Ok, con questo tasto Quindi In breve dovremo iniziare a creare la nostra città Vediamo se c'è altro qui Qui abbiamo tanto acqua E vento Qui invece possiamo fare delle grandi opere Qui abbiamo acqua e vento Vabbè Quindi entriamo in città E uguale a Direi di iniziare subito Prendiamo il nostro caro menu Non so la velocità quanto è Magari metterei Siamo al gennaio dell'anno 1 Perfetto Quindi io direi di zoomare un po' Praticamente la text L'ho messa tutta in media Però se no la grava Vado già a 10 fps Ma non so perché Però non largo Vabbè Comunque Zone No Direi di fare delle strade Qui c'è anche una strada Non asfaltata Però non la metto Direi di mettere dei viali Innanzitutto Questo Questo Perché ho deciso Di fare la casa in modo particolare Cioè la casa e la città Ok Credo che questo qui sia perfetto Ok Poi direi di prendere delle Questo E fare delle diramazioni Partendo da qua Ok Speriamo che i soldi bastino Perché Logicamente Ci abbiamo un limite per il momento Ok Potrei anche iniziare Ecco Roll Facciamo così E inizierei appunto Facendo così E poi qui Prolungando ancora Ok Qui Mettendo le zone Industriali Zone Industriali Eccole qui Ricordo che Premendo Control C Me le piazza tutte Ok Qua tutte industrie No Qua industrie Ok Poi direte Il motivo Perché ho deciso di fare questo E bella domanda Lo so pure io Roll Guardiamo dove viene il vento Scusate un attimo Il vento No Vabbè vediamo le risorse primarie Dove stanno Porca vacca Allora Popolazione Non c'è niente Valor terreno Per ora Niente Qua Mappa dei siti edifici Dovrei vedere Qui vediamo un po' Qui vediamo un po' i menu Disastri Beh non c'è niente LOL Parchi Per il momento Niente Cioè abbiamo poco nulla Anche qui altrettanto E anche qui ci manca Tutta la cosa Che dobbiamo sbloccare Pian piano Qui vedete abbiamo Il tubo di scarico Delle acque Reflue Intanto qui vedete Che si stanno facendo Le prime industrie Che iniziano ad essere Industrie abbastanza elevate Perché ho messo strade Abbastanza evolute Ok Non vengono Case o robe Abbastanza piccole Perché Ho fatto strade Abbastanza potenti Poi vabbè Qui partirei Mettendo un'altra strada Ok E qui invece Mettere tutte quante Le nostre case Qua mettiamo Tutte le nostre case Di quelli che lavorano All'impianto industriale E qui Mettere i negozi Qui No vabbè Qui ormai Non posso più Quindi vediamo Cosa ci dice La nostra signorina Espandi la zona Con 8 case Perfetto Che vedete Che qui Stiamo già partendo Alla grande Come Come viali Che vedete Ci sono già Industrie belle Grosse Quindi Buona Se logicamente Non sono ancora Molto evolute Però Già Stiamo partendo Bene Adesso Cosa si potrebbe fare Vediamo un po' La regione Vediamo come si sta Espandendo Ci abbiamo appena iniziato Tanto vediamo Che non abbiamo neanche un comune Perché dobbiamo aspettare Che qui ci dica Nell'ambara trattico Ok Le case sono ancora Abbastanza piccole Direi Vabbè Le case sono ancora piccole Esidenza disponibile Causa Mancanza di energia Ok Manca l'energia Praticamente Vabbè Il nostro era Fare Questo obiettivo Qui Ok Eh Caro Mario Adesso Che obiettivo Mi dai da fare E qui Stiamo facendo Dei negozi Che stanno già Evolvendosi In modo assurdo Eh Sono sparite le missioni LOL Allora Qui mi dice che L'indicatore Mi dice che Domandano Residenze No Domandano Acqua Ed energia Addirittura Va bene Dobbiamo vedere Dove si trova La Atmosferica O Basso Necessità Vento Ok Loro Adesso Vorrebbero Il vento Quindi Direi che Per questo video In cui abbiamo iniziato Sia tutto Ditemi cosa ne pensate Vedremo Di capire un po' di più Nel prossimo episodio Quindi Per questo video è tutto Logicamente Se la serie Vi interessa E vi gusta Lasciate un bel Mi piace Da MrFulm99 Tutto Ciao a tutti Ciao a tutti